ma buongiorno buon 25 aprile e sì sono tornata e spero per restare insomma perché è parecchio tempo che non ci vediamo qui sul canale in realtà anche gli amici di instagram mi hanno perso di vista non vi preoccupate sono sempre qui rimango un po defilata dentro le quinte quindi continuo comunque a seguire quello che fate i vostri contenuti e a mettere mi piace a commentare eccetera ma non sono stata molto presente e gli amici di instagram qualcosa hanno intuito nel senso che la ragione è una essenzialmente e cioè che sto più scrivendo rispetto al leggendo perché sto lavorando a due progetti editoriali che mi prendono parecchio impegno soprattutto tempo libero e mi assorbono parecchio in tempo e molto di questo tempo ovviamente l'ho dovuto sottrarre alla mia amata lettura e comunque oggi volevo un po farvi il punto diciamo della mia situation diciamo così allora sicuramente qualcuno già lo sa ma ho avuto l'onore la fortuna e il privilegio diciamo così di vedere due miei racconti già pubblicati e sono racconti brevi uno è un racconto a tema natalizio ed è contenuto in questa raccolta che vedete qui ovvero storia di natale dell'idrovolante edizioni e il mio racconto appunto lo trovate qui sono organizzati i racconti in ordine alfabetico tra l'altro sono insieme a degnissimi colleghi autori e il mio racconto si intitola il natale di un manichino ed è ambientato a genova nel 1984 e sono molto affezionata a questo racconto non solo per la storia in sé con una storia breve ovviamente bisognava che fosse una storia breve era necessario quello fosse per poter essere inserita in questo racconto in questa raccolta ma è una storia non dico autobiografica no perché la vicenda inventata ma che mi ha dato l'opportunità di ricordare diciamo così quelli che sono stati alla fine i natali della mia infanzia io che ho passato appunto genova per cui ci sono dei momenti in cui nonostante io non sia rappresentata in nessuno dei protagonisti perché le protagonisti chi sono sono alla fine due sorelle una più giovane e l'altra appunto già mamma e in particolare una di queste due appunto che è la zia di questo bambino che è un po me diciamo così cioè insomma come fanno un po tutti gli autori ho inserito un po di me non soltanto in un personaggio ma in più personaggi e quindi una vicenda diciamo così autobiografica nei sentimenti nelle emozioni perché di per sé appunto la vicenda è inventata comunque c'è questa ragazza appunto la protagonista che è alla ricerca di un manichino e un manichino sartoriale perché vuole appunto fare un passo in più nella sua diciamo neopassione per il cucito ha dovuto abbandonare l'uncinetto per problemi al polso e quindi da un po più lavorare con il ritmo che aveva appunto in precedenza e dopo un periodo di pausa in cui diciamo deve indossare un tutore durante il quale appunto non può lavorare decise ricercarsi un altro hobby anche perché in realtà lei ha un modo un po tutto suo di affrontare un po le situazioni e dove ritiene che in qualche modo un hobby possa essere vissuto come un modo diciamo per fuggire un po dalla realtà e quindi alla ricerca di qualcosa che rappresenti questo diciamo quello che è un suo schema alla fine di vita e che ha sempre comunque visto rappresentato da quella che è stata fino a poco tempo fa la sua grande passione cioè l'uncinetto trova il cucito lo trova per caso e volendo in qualche modo riuscire a creare qualcosa di più ad imparare meglio a riuscire meglio si mette alla ricerca di un manichino al sartoriale si convince che senza un manichino al sartoriale questo suo hobby non potrà appunto crescere e quindi comincia questa ricerca ovviamente su un manichino usato perché non può permettersi un manichino nuovo e trova un negozio nel quartiere genovese di marassi dove tra l'altro lei vive un negozio che vende appunto che ha a disposizione uno di questi manichini che lei sta cercando e quindi cosa fa? si reca ovviamente su questo negozio e acquista il manichino e qui ovviamente parte la vicenda che si intitola proprio Natale di un manichino che sarà diciamo un miracolo di Natale nelle più belle e diciamo allegre ma anche emozionanti tradizioni natalizie di Kensiane nonostante appunto qui siamo Genova nel 1984 comunque il libro lo trovate anche su Amazon o lo potete comprare anche sul sito direttamente dell'idrovolante edizioni e ve lo consiglio innanzitutto perché c'è ovviamente il mio racconto ma non solo per questo perché io ho letto anche gli altri racconti e devo dire insomma se siete alla ricerca di un occhio diciamo un po' diverso, un po' fresco diciamo così un po' nuovo anche sul Natale perché c'è di tutto in questa raccolta ci sono anche storie del tempo di guerra, ci sono storie autobiografiche ci sono storie vere anche che sono ovviamente riportate in modalità narrativa in lo stile del racconto e quindi indubbiamente diciamo si colloca tra i racconti di Natale insomma se avete tutto sull'argomento, se avete già tutte le raccolte che hanno mai stato che hanno mai stampato, che sono mai state scritte sul Natale, raccolte ovviamente di racconti e questo vi manca, non potete appunto lasciarvelo scappare assolutamente anche perché poi è uno di quei libri che potete prendere e riprendere anche durante il periodo natalizio, fuori dal periodo natalizio e ritrovarvi immediatamente immersi nello spirito del Natale mi sono resa conto poi con questo racconto che ovviamente non è il primo che scrivo, io scrivo da sempre praticamente da quando ne ho memoria comunque mi sono resa conto che molte delle cose che scrivo sono ambientate a Genova e che questa forse diventerà una delle mie caratteristiche diciamo così, anche future nel senso, non lo so è come se avessi avuto una sensazione forte, una certezza che a un certo punto non è più soltanto una certezza e una consuetudine ma sta diventando una caratterizzazione diciamo, da un'abitudine a un vero e proprio tratto caratteristico del mio modo di scrivere che vorrei proseguire tanto è vero che vi faccio questo piccolo spoiler cioè le due cose più corpose che sto scrivendo appunto in questo periodo una iniziata addirittura nel 2009 quindi mi direte voi, datti una sbrigata comunque hanno questa caratteristica cioè sono entrambi racconti più che racconti, veri e propri romanzi lunghi che appunto sono ambientati nella mia terra cioè nella mia appunto Genova non solo perché tra le cose appunto che ho pubblicato da poco c'è anche un altro racconto che è contenuto in quest'altra raccolta cioè parliamo di racconti Umbri edizione 2020 della storica edizione anche questo lo trovate su Amazon, su IBS in versione cartacea ecco non vi ho detto una cosa importante mentre questo libro lo trovate anche lo trovate solo in edizione cartacea le storie di Natale le trovate anche in versione appunto ebook comunque anche sul sito direttamente dell'istorica lo appunto potete trovare anche in questo caso abbiamo un racconto breve dei racconti brevi ovviamente troviamo appunto anche il mio e il mio racconto si intitola Ottobre Trevano qui non siamo a Genova ma siamo a Trevi che è appunto il paese dove vivo il borgo appunto medievale dove vivo in Umbria dove vivo lo sapete ormai da tanti anni sono insomma 15 anni che vivo qui e il racconto è proprio incentrato su questa tradizione diciamo così dell'Ottobre Trevano che abbiamo che hanno qui a Trevi ovviamente all'interno della quale ho incominciato a entrare in un certo senso da quando appunto vivo qui che succede? succede che tutto il mese di Ottobre in questo borgo che tra l'altro è uno dei più belli d'Italia viene dedicato a una serie di festeggiamenti delle vocazioni medievale in particolare la Corsa dei Carri che è diciamo il cuore dell'Ottobre Trevano se volete sapere di più ovviamente chiedete, scrivete nei commenti e ne parliamo sempre molto volentieri ma vi piacerebbe che se non sapete di cosa sto parlando poteste in qualche modo avere qualche informazione di più attraverso la narrativa cioè attraverso il mio racconto si tratta di un racconto un po' diciamo di ispirazione gotica e psicologica più che altro perché gli elementi thriller che sono presenti sono elementi più psicologici diciamo che di genere vero e proprio horror comunque anche qui c'è una presenza e non si sa bene quale sarà e come sarà insomma nelle giornate diciamo così ottobrine della protagonista entra una donna una donna molto anziana una vecchia con un bastone insomma non si sa bene questa donna da dove venga sicuramente ricorda indubbiamente dei personaggi già visti già letti ed è un po' un modo per celebrare anche in un certo senso quel tipo di narrativa che per la quale io sono della quale sono una grande fan non lo sapete assolutamente ma insomma non si sa bene se vi state chiedendo se c'è un fantasma qui dentro non si capisce se sia un fantasma reale o se sia diciamo qualcosa di creato indubbiamente dalla mente della della protagonista che si trova a dover in qualche modo fare i conti con l'accettazione con la sua persona l'accettazione e col suo modo in qualche modo di percepire l'accettazione è un racconto sull'inclusione sul sentirsi partecipe sul sentirsi accolti e su come tutti quanti noi che in qualche modo ci troviamo a vivere in luoghi e in momenti soprattutto i luoghi ovviamente non tanto in momenti ma comunque luoghi diversi da quelli d'origine viviamo ed è una comunanza pazzesca cioè non esiste più lontananza non ci sono più chilometri io mi sento vicina psicologicamente anche a persone che vivono qui venendo da lontananze molto più larghe rispetto a quelle che riguardano me che alla fine venivo vengo semplicemente da un'altra regione d'Italia e in questo senso siamo tutti uniti diciamo in questo sentirsi accettati in questo sentirsi partecipi di qualcosa che nel caso dell'ottobre trevano non mi apparterrà mai sostanzialmente nel senso che è veramente il simbolo di un qualcosa che io nel racconto definisco una tana e che avevo e che non ho più e che non è un sinonimo di casa se sono riuscita in qualche modo ad incuriosirvi parlando di quello che ho scritto sono contenta perché voglio dire questo è lo scopo di tutto quello di cui parlo quando parlo di letteratura e di film in questo caso parlo di cose scritte da me quindi ovviamente l'emozione è forte comunque ottobre trevano vi aspetto assolutamente insieme a tutti gli altri degnissimi racconti perché anche in questo caso io ho letto gli altri racconti non l'ho letti tutti ho iniziato appunto a leggerli e assolutamente premiate la narrativa giovane giovane non soltanto in senso anagrafico voglio dire una giovane nel senso proprio che si affaccia per le primissime volte appunto nel panorama editoriale italiano che è sempre piuttosto scarno diciamo da questo punto di vista e che comunque rende noi in qualche modo lettori avidi di cose nuove io lo sapete che io lo so che voi siete avidi di novità e di leggere appunto cose nuove e fresche e che appunto si affacciano per la prima volta a qualcosa e comunque questi sono appunto i due libri io per i miei romanzi che sto appunto scrivendo sto leggendo molto e voi direte ti ho appena detto che stai scrivendo in realtà sto leggendo cose soprattutto inerenti a quello che sto scrivendo che mi possono in qualche modo essere utili per quello che sto scrivendo e in particolare vi ho portato un libro che sto appunto leggendo in questo periodo ovviamente cioè L'Annunzio e l'Occulto con un saggio introduttivo di Sirio delle Mediterranei Edizioni che è un libro appunto su Gabriele D'Annunzio ambientato ovviamente al Vittoriale ma non solo uno dei miei posti del cuore lo sapete il Vittoriale degli Italiani è Gardone Riviera perché l'ho visitato centinaia di volte e non diciamo me ne pento anzi e Attilio Mazza è un saggista bresciano che ha all'attivo una quarantina di opere tra cui una guida al Vittoriale volumi diciamo inerenti comunque alla vita di Gabriele D'Annunzio insomma un grandissimo conoscitore di Gabriele D'Annunzio avrete già capito che c'entra Gabriele D'Annunzio in questo uno dei due miei appunto romanzi che è ambientato a Genova anche questo negli anni 80 ma ha a che fare con il Vittoriale e che sarà appunto uno dei cuori diciamo così il Vittoriale e D'Annunzio della narrazione e del rapporto alla fine che D'Annunzio ebbe con queste tematiche come moltissimi suoi contemporanei e il modo in cui ha reagito a queste tematiche e come ha influenzato anche la sua opera diciamo così la sua narrativa il suo modo diciamo alla fine d'essere perché sto leggendo questo libro perché appunto c'è il Vittoriale perché uno dei miei personaggi assolutamente è diciamo così persa nel mondo di D'Annunzio perché è una grandissima appassionata di Gabriele D'Annunzio possiede tutto quello che è stato scritto da Gabriele D'Annunzio e su Gabriele D'Annunzio ed è una donna molto particolare diciamo che il romanzo parla di una di una ragazza giovane che si chiama Francesca che è appena diplomata il romanzo è ambientato negli anni Ottanta i primi anni Ottanta a Genova si è appena diplomata al liceo classico e va a fare questa prima diciamo esperienza lavorativa da apprendista alla fine per diventare correttore di bozze presso una casa editrice la casa editrice è gestita è una casa editrice diciamo di orientamento locale di storia locale cioè si occupa prevalentemente di storia locale ma ha una sezione una sezione a carattere esoterico che è gestita dalla moglie del proprietario che è una donna molto particolare un'ex cantante e che ha una passione sviscerata per Gabriele D'Annunzio non vi dico altro perché ovviamente se vi risco per spoilerarvi un romanzo che non è ancora uscito e non è sicuramente il massimo però spero scrivetemi nei commenti se vi interessa anche sentirvi parlare di me non solo di altri libri ma anche dei miei perché lo faccio molto molto volentissimo e comunque prima di salutarvi volevo dirvi che cosa sto leggendo ovviamente attualmente perché qualcosina sto leggendo non è che non sto leggendo niente ho iniziato l'ombra dello scorpione c'è la serie tv lo so lo so lo so benissimo è un libro che praticamente io devo leggere da tempo in memore e dovevo partecipare anche a un gruppo di lettura ma per mancanza di tempo non ci sono riuscita e comunque l'ho iniziato ovviamente sto andando col contagocce perché come potete immaginare sono immersa in altre cose avete notato però comunque sto portando comunque avanti anche una lettura perché lo sapete senza leggere non ci sto anche se senza leggere narrativa perché la saggistica avete visto quella funzionale a quello che sto leggendo la sto trattando e comunque sto andando avanti con questo libro ma è appena iniziato voglio dire vedete quindi non vi posso dire nulla però sapete che se mi pensate a leggere sto leggendo questo e quindi ovviamente ne parleremo e quindi io qui vi ho portato alcuni libri che sono quelli sulla vita di un'altra delle mie grandi passioni cioè su Elton John però siamo già a 18 minuti di video quindi non ve li faccio vedere adesso e però ve li faccio vedere ovviamente in un prossimo video sono libri che io ho collezionato negli anni e che appunto riguardano appunto quest'altra mia grande passione che è appunto quella per Elton John e sono parecchi come potete vedere e comunque ve li faccio vedere tra l'altro li farò vedere meglio ovviamente questo è mi cioè l'autobiografia l'ultima che ha appunto l'ultimo in termini diciamo di tempo e quello forse più importante perché è scritto direttamente da lui dove noi fan abbiamo scoperto alcune cose interessanti tipo rapporto con la madre che insomma non ci avevamo capito niente se le cose sono andate così comunque mi pare di avervi detto tutto per adesso vi saluto vi do appuntamento appuntamento al prossimo video ciao